Si potranno ammirare fino al prossimo 22 luglio al Polo Confortini di Verona le opere pittoriche e scultore dell'architetto Libero Cecchini, realizzate in un periodo di convalescenza dopo un intervento chirurgico e raccolte nella mostra l'arte come terapia. Sono stato preso dall'ambiente familiare, dalla famiglia, dai ricordi delle feste, ho fatto tanti schissi per un fatto e sono arrivato a concludere con un quadro che vedrete che è la festa di famiglia, dove ci sono i miei nipoti che ballano, dove ci sono e fanno la colazione, i miei figli e poi anche il ricordo della città di Verona nello sfondo, che questo è il risultato di questa, perché si chiama l'arte come terapia, cioè aggiungere alla terapia fisica, una terapia di pensiero, che l'uomo abbia la testa occupata, che voglia fare qualcosa che aiuta a riprendersi. Nato a Pastrengo il 28 settembre 1919, Libero Cecchini è un architetto molto conosciuto a Verona, dove ha realizzato importanti opere di edilizia pubblica, quali la Camera di Commercio e gli uffici finanziari, scuole, case popolari e per anziani, oltre che di edilizia privata. Negli anni Ottanta realizza importanti progetti di restauro, tra cui i lavori della Basilica di San Zeno, di Portaleoni, di Palazzo Forti e degli Scavi Scaligeri. Questa città l'ho tutta analizzata, amata, ricostruita, memoria, molte cose, la più bella non lo so quale sia. Poi c'è stato un grande impegno con San Zeno, con l'abate che era allora, che aveva fatto tutta la faccenda di San Procolo, di tutti gli scavi, della torre, tutto l'impianto compreso di San Zeno. Perciò mi sono occupato di tante cose, il Palazzo Forti e dopo i scavi scaligeri, e quindi sono stati un po' l'occhiello del mio concetto, cioè cercare di far rivivere il passato col presente. Questo è stato il mio impegno fondamentale.